Grazie. Presidente, il 28 maggio dello scorso anno è stata approvata e adottata una delibera di giunta regionale relativa all'abbattimento della liste di attesa per il soddisfacimento delle prestazioni correlate, dato che c'erano delle liste d'attesa importanti e se ne discuteva ormai da tempo. A noi non risulta che questa delibera sia stata mai sospesa, modificata o abrogata dall'aggiunta regionale. Però la Regione, con il delibera 459 del 10 giugno, nel dare le linee di indirizzo per l'attività sanitaria nella fase 3, non ha previsto alcunché per quello che riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa, ma si è limitata, neanche richiamando quella delibera, quel piano, ma si è limitata la riattivazione delle prestazioni. E poiché tutto questo non è stato quella vigenza di quella deliberazione, che è un piano importante perché è correlato al piano nazionale del Governo per le liste di attesa, e introduceva molte novità a nostro avviso importante, dai tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, 30 giorni per le visite e 60 per gli esami strumentali, i tempi di ricovero con classi di priorità, l'utilizzo ottimale di strutture e apparecchiature e lo svecchiamento delle apparecchiature diagnostiche, l'impiego di nuovo personale, una maggiore appropriatezza delle prescrizioni, il pagamento del ticket anche per coloro che non avrebbero comunicato la disdetta nelle 48 ore precedenti all'erogazione del servizio, l'introduzione del principio di managerialità nei distretti, la collaborazione col difensore civico, e ancora, tema ancora più importante, cosa che ancora non avviene in tutte le aziende, la presa in carico dei malati cronici che non debbano ogni volta per una visita di controllo ritornare al CUP e rifare la prenotazione della propria visita, l'individuazione di manager referenti per ciascuna azienda sanitaria e per ciascun distretto con il compito di vigilanza e di controllo sulle liste di attesa, l'apertura degli ambulatori, diciamo, fino a compresi i festivi e con orario prolungato. Tutto quello che ci sembra essere un buon piano che andrebbe attuato, oggi cozza con il fatto che non si è sospeso da un lato, non gli si sta dando attuazione e nel frattempo con l'emergenza Covid le liste d'attesa sono cresciute in maniera esponenziale, anche per una responsabilità che c'è nell'assessorato, perché nella riorganizzazione e nell'organizzazione dell'emergenza non si è tenuto conto della necessità di una netta separazione tra presidi e strutture dedicate al Covid in modo da garantire la normale attività delle nostre strutture d'eccellenza, normale attività che ancora, nonostante gli annunci, non è ripresa. E anche l'interrogante precedente poneva in qualche modo questa questione. Quindi vorremmo conoscere dall'assessore, dalla giunta regionale, in che modo intendono riprendere l'attuazione del piano di smaltimento delle liste d'attesa vigente di quella appunto delibera, attraverso in particolare l'esecuzione delle innovazioni adottate e, se possibile, l'inserimento di ulteriori risorse, oltre a quelle a suo tempo estanziate, qual è lo stato attuale delle liste d'attesa, cosa ancora più necessaria, perché non vorremmo che nella ripresa, visto che non c'è nessuna pianificazione da questo punto di vista, non vorremmo che alla ripresa delle attività autonnali, con la ripresentazione possibile, come dicono molti esperti del tema dell'emergenza e del Covid, noi ci ritrovassimo in una condizione ancora più difficile, sia perché non si è affrontato il tema delle liste d'attesa, concludo, sia perché non si sono create oggi le condizioni perché domani una nuova possibile pandemia si è affrontata in maniera diversa, cioè facendo in modo che i nostri ospedali possano continuare a erogare prestazioni ordinarie e straordinarie quotidianamente, così come nelle loro eccellenze. Grazie. Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Va fatta una premessa. Nel periodo di emergenza Covid, l'attività procrastinabile è stata sospesa in Umbria, al pari delle altre regioni. Come le indicazioni fornite dal Ministro e dell'Operatore della Salute, si evidenzia che alcune attività non sono mai state sospese. Per le prestazioni chirurgiche, i ricoveri elettivi oncologici, i ricoveri elettivi non oncologici di classe di priorità A, 30 giorni ad esempio. Per la specialistica ambulatoriale sono state sempre garantite sia la prenotazione che l'erogazione delle prestazioni con classe di priorità U, 72 ore, e B, 10 giorni. Oltre che le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche, chemioterapiche e i controlli post-operatori e le prestazioni riabilitative e post-chirurgiche, le post-dimissione ospedaliera, le prestazioni dialitiche e le prestazioni per pazienti in TAO. Già nella fase 2 DGR 374 del 2020 è stato stabilito di riavviare l'attività per il recupero delle prestazioni sospese. Sia interventi chirurgici che prestazioni ambulatoriali a partire dal 18 maggio scorso, nel rispetto delle misure di sicurezza e successivamente nella fase 3 DGR 467 2020 è stata stabilita la ripresa dell'attività e sono stati indicati i tempi per il recupero dell'attività sospesa per l'attività chirurgica. Entro il mese di luglio gli interventi di classe priorità B 60 giorni e C 180 giorni. Entro il mese di novembre per gli interventi di classe priorità D 12 mesi. Per le prestazioni specialistiche ambulatoriale entro il mese di luglio i primi accessi con la classe priorità D 30 giorni per le visite, 60 giorni per le prestazioni diagnostiche e gli accessi successivi follow-up e controlli, eccetera. Entro il mese di novembre per gli accessi con la classe priorità P programmabile 120 giorni. Riguardo gli argomenti specifici richiesti dell'interrogazione, la Giunta regionale, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza Covid, ha già iniziato a dare attuazione a quanto previsto nel piano regionale 2019-2021, approvato con delibere 610 e 65 2020. Tutti i medici hanno l'obbligo di prescrivere i primi accessi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con indicazioni della classe di priorità U 3 giorni, B 10 giorni, D 30 giorni, eccetera. Prestazioni diagnostiche P 120 giorni. La prenotazione, pertanto, avviene nel rispetto ai tempi indicati della prescrizione. Laddove nel momento della prenotazione vi sia disponibilità per il paziente viene inserito nel percorso tutela e richiamato per fissare la data dell'appuntamento. Circa ciascuna azienda ha nominato un manager referente sanitario per ciascun distretto che in collaborazione con il manager referente sanitario individuato dall'azienda ospedaliere ha il compito di individuare le modalità più opportune per la gestione degli utenti inseriti nel percorso di tutela. Inoltre, le delibere che hanno emanato le linee di indirizzo per l'attività sanitaria a fase 2 e 3 sono state stabilite alcune misure previste dal piano regionale, quali l'estensione dei giorni di apertura degli ambulatori 6 giorni e mezzo su 7 e degli orari dalle 8 alle 20 e, se necessario, due aperture serali. La valutazione delle condizioni di appropriatezza clinica delle prescrizioni anche al fine di garantire la prestazione erogata prioritariamente alle esigenze di diagnosi per sintomi emergenti e alla presa in carico delle patologie con veloce variabilità nel tempo. Tale lavoro viene effettuato attraverso il confronto e la collaborazione tra i medici in medicina generale e i medici specialisti. Su tale argomento è stato inoltre avviato il lavoro di monitoraggio che prevede l'elaborazione periodica di report da parte dei medici in medicina generale pediatri libera scelta e gli specialisti contenenti specifici indicatori attraverso i quali verranno stabiliti obiettivi per entrambe le diverse tipologie di medico prescrittore, MMG, pediatri libera scelta o specialista. La presa in carico dei pazienti con patologie rilevanti patologie croniche e malattie rare ad alto rischio di instabilità clinica e di acutizzazione garantendo la continuità terapeutica e la massima sicurezza dei pazienti attraverso l'effettuazione delle consulenze telefoniche da parte dello specialista. Faccio rilevare solo che ad oggi al 22.6.2020 quelle che sono le liste d'attesa sono state esaudite al 37% quindi diciamo che stiamo lavorando bene e per quanto riguarda con l'obiettivo naturalmente di accelerare e fare ancora meglio Per quanto riguarda la presa in carico abbiamo riscritto quanto dovuto nel rispetto di quelli che sono i nostri pazienti che una volta che il medico di medicina generale invia lo specialista la presa in carico viene fatta dallo specialista e viene continuata dallo specialista ospedaliero quindi non c'è più il rinvio al medico di medicina generale per ulteriore prescrizione ma si continua con la presa in carico dell'ospedaliero. Grazie Per quanto riguarda le risorse va sottolineato che le aperture serali e le aperture di sabato e domenica hanno bisogno di ulteriori risorse e verranno sfruttate quelle che accennava il consigliere Pocanzi Grazie Replica al consigliere Bori Grazie Presidente Ho ascoltato con attenzione la risposta dell'assessore della nostra interrogazione C'è un problema nel senso che quello che è scritto su carta lo conosciamo lo conoscevamo è sostanzialmente il piano per l'abbattimento delle liste d'attesa che è stato già approvato il tema è un altro il tema è che in Umbria abbiamo nel nostro sistema sanitario regionale tra le 40.000 e le 120.000 prestazioni arretrate a queste prestazioni arretrate si aggiungono tutte le prestazioni che non sono state prescritte perché in questa fase i pazienti i cittadini avevano timore ad andare dal proprio medico o ad accedere in ospedale quindi quella è solo una piccola frazione le 120.000 le 40.000 arretrate sono una frazione di quelle che addirittura non sono state prescritte se andate a vedere i dati perché i dati sono importanti e bisogna conoscerli c'è un calo enorme delle diagnosi allora non è che la popolazione è guarita dalle patologie oncologiche dalle patologie ginecologiche dalle patologie neurochirurgiche non è quello è che non c'è diagnosi perché non c'è accesso alla diagnosi è un problema drammatico non basta fare le cose su carta bisogna trasferirle nella realtà ad oggi c'è una situazione che preoccupa sullo stato di salute noi siamo abituati ad avere una diagnosi tempestiva una terapia efficace e una cura sul piano chirurgico e sul piano clinico oltre che sulla diagnostica ad oggi questo non c'è va affrontato seriamente noi lo abbiamo posto qua come tema suggerendo anche un commissario per le liste d'attesa è questa l'unica strada percorribile risorse personale strumentazione e attenzione al fatto che le cose su carta si trasferiscano nella realtà a volte nei meandri della burocrazia sanitaria si perdono le cose che servono invece ai cittadini c'è un grande bisogno di salute grande bisogno di salute soprattutto in questa fase e una grande preoccupazione della popolazione che va affrontata queste non possono essere risposte oggetto numero 16 interroga il consigliere De Luca e risponde sempre l'assessore Coletto prego la parola al consigliere De Luca grazie presidente attraverso questa interrogazione avente per oggetto la salvaguardia della continuità operativa del registro tumori Umbro nuova convenzione pluriannale per garantire adeguate risorse intendimenti della giunta al riguardo abbiamo voluto chiedere all'assessore Coletto quali sono gli intendimenti da parte della giunta regionale per salvaguardare la continuità è l'operato di un registro tumori che nei fatti è uno dei più antichi d'Italia e che rappresenta uno strumento ineludibile per poter rappresentare una reale situazione dell'incidenza in particolar modo delle patologie ambientali nei territori in cui i cittadini sono esposti alla contaminazione e alla presenza di inquinanti tra il 1993 e il 2015 a fronte di uno standard che aveva uno stanziamento di circa 380 mila euro e di 16 unità di personale siamo passati a 180 mila euro e a solo 5 unità di personale in disponibilità oggi la convenzione è scaduta il registro dei tumori rischia oggettivamente di scomparire questa interrogazione è molto vecchia poi magari nella replica dirò di quanto all'interno quindi sono contenute delle definizioni che erano riferite diciamo a diversi mesi fa c'è stata una dichiarazione da parte dell'assessore coletto all'interno della terza commissione consigliare una presa diciamo di posizioni in cui a febbraio si annunciava la stipula celere di una convenzione purtroppo qui ho sotto le mani un articolo con una dichiarazione del professor Stracci del 31 maggio 2020 in cui si parla di questioni legate al covid quindi all'adozione di uno strumento di sorveglianza attiva per il controllo dell'evoluzione dell'epidemia e si fa riferimento a questo software che era stato sviluppato proprio da questo team ma che non è diciamo sviluppato dal registro tumori che non è stato rifinanziato dalla regione quindi al 31 5 2020 questa era la situazione quindi chiedo all'assessore coletto qual è la situazione attuale e quali sono gli intendimenti quindi suoi e della presidente in merito a questo assessore coletto grazie presidente va ricostruita un po' la storia il controllo della patologia neoplastica rappresenta una componente fondamentale nella lotta dei tumori perseguita in tutto il mondo e resa possibile grazie all'opera dei registri tumori presenti in tutte le nazioni avanzate riuniti nell'OIARC a livello mondiale i registri tumori sono strutture impegnate nella raccolta di informazioni multidisciplinari sui pazienti oncologici e sulle neoplasie presenti in un determinato territorio le finalità del registro tumori di cui è titolare la regione umbria sono quelle di fornire basi epidemiologiche per la programmazione regionale e l'organizzazione di servizi sanitari in oncologia tramite azioni specifiche che consentano la sorveglianza epidemiologica l'epidemiologia valutativa la ricerca in campo oncologico l'Umbria è stata la prima regione in Italia ad attivare il registro tumori a copertura regionale il registro è stato istituito nel 1993 presso l'osservatorio epidemiologico della regione dell'Umbria con la collaborazione scientifica del dipartimento di genere dell'Università di Perugia negli anni sono state stipulate convenzioni con l'Università di Perugia in particolare con l'attuale dipartimento di medicina sperimentale per garantire un supporto epidemiologico in campo oncologico supporto che si è concretizzato prevalentemente ma non solo nell'attività di gestione del registro tumori umbro di popolazione si vedano le delibere 149 del 2007 la 1933 del 2010 la 722 del 2014 eccetera fino ad arrivare al 2018 il registro ha conseguentemente ha conseguito nel 1998 l'accreditamento da parte della rete di registri tumori nazionali e nella rete mondiale lo IARC appunto il registro tumori umbro di popolazione RTUP partecipa ai progetti di ricerca collaborativi nazionali e internazionali con legge numero 11 del 2015 all'articolo 102 è stato previsto tra i registri di popolazione regionali anche l'istituzione del registro regionale tumori il registro tumori di popolazione inoltre è uno dei principali registri previsti dalla normativa nazionale di PCM 3 marzo 2017 identificazione dei sistemi di sorveglianza dei registri di mortalità e di tumori delle patologie tale di PCM prevede la predisposizione di un regolamento per il suo funzionamento a partire dal 21 giugno del 2018 la conferenza delle regioni delle province autonome ha approvato uno schema di deliberazione per l'adozione del regolamento regionale approvato dal garante 18 aprile 2018 che non è mai stato adottato dalla regione dell'Umbria a partire dall'anno 2017 la precedente giunta ha previsto un taglio orizzontale delle risorse delle attività di GR897 del 28 luglio 2017 passando da un finanziamento di 400.000 euro all'anno ad un finanziamento di 180.000 euro all'anno inoltre l'orizzonte temporale della convenzione è stato spostato da tre anni a un anno tra le attività tagliate è inclusa quella della produzione del dato delle cause specifiche di morte ossia il registro nominativo delle cause di morte RENCAMMA fermo all'anno 2016 che insieme all'anagrafica dei residenti i referti di anatomia patologica e le schede di missione ospedaliera è tra i flussi imprescindibili per la produzione di dato consolidato ed accreditato di un registro tumori a ciò si aggiunge un ulteriore elemento di confusione ereditato dalla precedente giunta relativo all'osservatorio epidemiologico in quanto la legge regionale 8 del 2018 norme per la ricostruzione delle aree colpite negli eventi sismici del 24 agosto 2016 26 30 ottobre 2016 e successivi la regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di sistema informativo sanitario regionale e osservatorio epidemiologico regionale questa giunta dovrà inevitabilmente riordinare quella che è stata una disarticolazione definiamola così che si è originata in tempi brevi dipendentemente dall'evoluzione dell'emergenza legata alla pandemia covid-19 che oggi risulta sotto controllo la giunta procederà in una fase di transizione con un confronto scientifico con le parti interessate per garantire la ripresa delle attività strategiche del registro tumori considerato da questa giunta uno strumento fondamentale per la sanità pubblica in particolare si provvederà individuare un gruppo di lavoro indicato dalla direzione regionale ampiamente rappresentativo che elabori in tempi brevi una proposta operativa dettagliata assicurare l'approvazione in un regolamento regionale per il registro tumori ripristinare le condizioni essenziali di funzionamento precluse della precedente gestione con la disattivazione del registro di mortalità ripristinare i servizi e le linee di ricerca che rappresentano un rilevante elemento valorizzare l'esperienza umbra anche nel contesto della rete nazionale di tumori grazie consigliere De Luca io voglio tranquillizzare l'assessore che diciamo non c'è alcun bisogno che lei cerchi di convincermi su quanto hanno fatto male quelli di prima nel senso su queste questioni non c'è bisogno che di fronte a una domanda specifica ovvero intendete sottoscrivere o no il rinnovo della convenzione lei mi ha fatto un paneggirico parlando diciamo di tavoli tecnici per eludere quella che è una risposta io oltre diciamo a fare le visite guidate all'interno dell'ospedale di Terni se vuole la prossima volta mi chiama facciamo un bel tour su quelli che sono le aree più esposte della città alla contaminazione ambientale andiamo la notte a Borgo Bovio a vedere le nuvole di polveri che si alzano la porto a Papigno la porto nelle aree dove vivono le persone vicino alla discarica di Vocabolo Valle e poi si rende conto di qual è l'importanza imprescindibile di avere uno strumento come questo che oltretutto diventa un diversivo sistematico che viene messo in campo da parte dei vari governi locali per arrivare a dire e a procrastinare quelle che sono le azioni da mettere in campo facciamo altri monitoraggi monitoraggi di monitoraggi allora se è stato possibile fare lo studio sentieri è stato grazie a questo strumento quindi io stia tranquillo che le sarò alle calcagna per far sì che venga stipulato il prima possibile questo accorto e che venga ripristinato questo strumento poi massima disponibilità a lavorare anche insieme per ripristinare quello che è stato distrutto prima grazie grazie consigliere De Luca oggetto numero 17 interrogano i consigliere Bori e Meloni risponde l'assessore Coletto chi la illustra consigliere Bori con la delibera 467 del 10 giugno 2020 non potendo abolire un diritto lo avete reso inaccessibile rimuovendo l'interruzione di gravidanza farmacologica in assistenza sanitaria domiciliare o in dei hospital e costringendo la donna a tre giorni di ricovero forzoso in ospedale l'esatto contrario di quello che sta avvenendo in questi giorni in Toscana in cui la delibera presente in Umbria precedentemente viene attuata oggi voi l'avete cancellata tre giorni di ricovero forzoso che costringe la donna a spiegare ai familiari ai datori di lavoro nei situazioni di difficoltà cosa sta accadendo un grave e inaccettabile passo indietro che mina l'autodeterminazione della donna la cosa che fa più effetto è coprire questa volontà con la scusa della tutela della salute della donna non è così l'interesse è mettere sotto tutela la donna e rompere quella che è l'alleanza terapeutica tra la ginecologa e il ginecologo e la donna stessa mettere sotto tutela la donna perché come sapete o come dovreste sapere in Italia negli ultimi dieci anni come nel resto del mondo non c'è stato nessun evento avverso all'assunzione della RU486 se l'interesse fosse stato veramente quello di tutelare la salute della donna avreste potuto investire nel radicamento dei consultori e nella loro apertura avreste potuto investire nel personale nelle risorse avreste potuto investire nella contraccezione gratuita che evita di arrivare a scelte difficili e dolorose non avete fatto questo avete cancellato e rimosso un diritto rendendolo inaccessibile e dovreste anche sapere cosa che si è dimostrata non essere che in Umbria gli obiettori di coscienza tra i ginecologi non sono poco meno del 50% ma sono una larga maggioranza due su tre tutte cose che chi è chiamato a governare deve sapere io ho provato imbarazzo quando ho visto che non c'era una base scientifica sulla vostra scelta ma una base ideologica dettata forse da qualche suggerimento romano noi saremo qui in aula come siamo stati domenica in piazza e come eravamo stamattina a lottare per ripristinare un diritto una modalità di accesso a un diritto che è quella presente in tutto il mondo il 5% di interruzione di gravidanza in Umbria con la modalità farmacologica che voi state addirittura riducendo è troppo poco l'obiettivo non è rimuoverlo è incentivare l'accesso a un diritto con questa modalità che impatta in maniera minore sia a livello fisico a livello psicologico su una donna che è chiamata già ad una scelta difficile qualcuno ha detto che è come assumere una zigulì è una vergogna dirlo è una vergogna pensarlo quindi saremo in piazza e saremo nelle istituzioni per lottare contro questa delibera sbagliata e di cui vi chiediamo il conto noi qua in aula ma vi chiede conto la società Umbra fuori ammettete l'errore e cambiatela subito Assessore Coletto grazie Presidente in ottemperanza della legge 194 della 78 rispettando la libertà di scelta della donna e garantendo la sicurezza dei percorsi assistenziali con DGR 374 del 2020 durante l'emergenza sanitaria a Regione Umbria così come raccomandato da molte società scientifiche ha concordato nel promuovere maggiormente la modalità farmacologica dell'interruzione volontaria di gravidanza RU486 cercando di limitare il più possibile gli accessi in ospedale probabile fonte di contagio tutti i servizi ospedalieri territoriani in quel preciso momento erano particolarmente attivati ad assistere domiciliarmente i pazienti di qualsiasi tipo per non ingolfare evidentemente gli ospedali con probabili fonte di contagi si trattava di un momento di emergenza per assicurare comunque le risposte alle donne intenzionate ad effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza gli aspetti del percorso assistenziale adottato in Darvola DGR 1417 2018 hanno previsto di promuovere l'interruzione della gravidanza con modalità farmacologica sempre a discrezione del professionista responsabile del processo e con consenso della paziente lo scopo era ridurre il numero degli accessi in regime dei ospital terapeutico interventistico che pervede un unico passaggio nell'ambulatorio ospedaliero con l'assunzione del MIFE pristone e della somministrazione a domicilio delle prostroglandine attivare una consulenza da remoto da parte del servizio ospedaliero per l'interruzione volontaria di gravidanza o del servizio consultoriale per il monitoraggio delle condizioni di salute della paziente nelle giornate di assunzione del farmaco a domicilio effettuare controllo ecografico dopo l'evento espulsivo presso il servizio consultoriale e non nel servizio ospedaliero attraverso la programmazione di una visita previo a contatto telefonico o prenotazione presso il CUP prevedere l'ampiamento del termine del trattamento da 7 a 9 settimane di gravidanza e quindi assicurare la procedura entro il 63 giorno di amenorrea raccomandare alla paziente di rivolgersi in urgenza all'ospedale più vicino a domicilio qualora insorgessero una sintomatologia o un quadro clinico non rientranti tra quelli descritti dal medico durante i colloqui opportunamente riportati nella nota informativa che accompagna il consenso e che possono indicare l'insorgenza di complicanze ciò ha risposto ciò ha imposto ai servizi consultoriali e territoriali un'attenzione e una modalità di lavoro aggiuntiva rispetto a quanto in regimi normali pre-pandemici i servizi erano abituati a lavorare con DGR 467 2020 si rientra nella fase 3 di progressivo rientro nell'operatività dei servizi epoca pre-pandemica con la DGR si è optato dopo un'attenta analisi in quella che era stata negli anni passati la programmazione regionale e l'organizzazione dei servizi in materia si è quindi convenuto che fosse necessario ottemperare i principi normativi espressi dal Ministero della Salute le indicazioni ministeriali del 24 giugno 2010 gli indirizzo sull'interruzione volontaria di gravidanza e i pareri del Consiglio Superiore di Sanità del 18 marzo 2004 e del 20 dicembre 2005 del 18 marzo 2010 e ribadiscono la necessità del regime di ricovero ordinario i pareri citati relativamente al metodo farmacologico del RU486 espressi dal Consiglio di Stato sono gli unici espressi in materia per questo si è ritenuto opportuno attenersi scuporosamente ai dettami normativi a garanzia della salute della donna proponendoci di demandare a successivi momenti di confronto con le altre regioni e il Ministero la possibilità di individuare modalità che permettono a norma di legge di derogare alla modalità di ricovero ordinario come setting assistenziale per l'effettuazione dell'interruzione di gravidanza farmacologica è stato necessario il superamento delle indicazioni previste da DGR 374 2020 recante linea indirizzo per le attività sanitarie della fase 2 e anche della DGR 1417 del 4 dicembre 2018 recante l'interruzione volontaria di gravidanza con metodologia farmacologica relativamente all'opportunità di somministrare l'RU 486 in regime di ricovero in dei hospital con l'ospicio che in breve tempo si esprime al Ministero o gli organi competenti in materia per permettere alle regioni di effettuare gli interventi nel setting assistenziale appropriato in base alla più recenti e aggiornamenti scientifici grazie quindi non c'è nessun tipo di preclusione ma respingo al mittente che questa giunta abbia voluto abolire un diritto delle donne abbiamo solo e semplicemente applicato quella che è la direttiva del Ministero in attesa che queste direttive vengano cambiate dallo stesso Ministero grazie grazie Assessore la replica al Consigliere Meloni ovviamente la replica non ho tante parole su un tema così importante tutti i temi sono importanti ma su un tema che riguarda i diritti delle donne non alzare la testa dal foglio senza guardare le persone in faccia sapendo che fuori ci sono delle persone che stanno manifestando e lo stanno facendo da domenica è veramente grave oltretutto appellandosi ad una legge nazionale che conosciamo tutti bene sulla quale la regione toscana in questi giorni e lo voglio ribadire il presidente della regione toscana Rossi sta facendo un'altra delibera che va verso un accesso più agevole una privacy più tutelata e una difesa dei diritti delle donne attivando l'attività ambulatoriale ovviamente con professionisti che sono in contatto con le strutture ospedaliere ascoltare una replica fatta soltanto di tecnicismi su un tema come un diritto è assurdo non è solo insoddisfacente è proprio assurdo oltretutto l'ospedalizzazione è una soluzione estrema per tutte le malattie e questo ce lo stiamo dicendo da anni tanto che gli ospedali optano anche per ricoveri ed interventi importanti una deospedalizzazione sempre maggiore e basta sperimentarlo sulle proprie vite e sulle proprie esperienze familiari noi che cosa avremmo voluto che in questa risposta ci fosse intanto un rafforzamento della rete consultoriale che passa anche attraverso ovviamente il rafforzamento della sanità territoriale che non mi sembra anche questa una vostra priorità il ricovero di tre giorni a che cosa risponde sicuramente non risponde né a criteri di maggiore territorialità ma nemmeno all'attuale emergenza sanitaria dove i numeri ce lo dicono e le statistiche ce lo confermano c'è stato esattamente il contrario c'è una deospedalizzazione durante l'emergenza covid tanto che vediamo come stiano aumentando i problemi relativi alle malattie oncologiche e cardiovascolari allora c'è un gran bisogno di ripensare la soggettività della donna nella società c'è anche un articolo oggi sulle testate nazionali che dice che 37 mila donne devono abbandonare il lavoro perché non riescono a fare una conciliazione tra casa famiglia lavoro cura dei minori e cura degli anziani qual è l'idea che questa regione ha dei diritti della sanità pubblica delle professionalità dell'idea della donna all'interno di una società che porti un contributo dove ci sia un giusto riconoscimento delle mansioni dei diritti delle professioni tra donna e uomo e divisione dei compiti e rispetto di genere questo è quello che noi ci saremmo aspettati oggi un ripensamento nella fase 3 ma un obiettivo di ripensare appena finita la fase 3 su dove andare non possiamo pensare di appellarci ad una legge nazionale che sappiamo benissimo che le regioni hanno potuto in questi anni ragionare e fare delle cose questo è inaccettabile grazie 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 grazie